Salve a tutti Blazers e benvenuti in questo ristrettissimo spazio Sono totalmente incassato in questo buco E forse è il caso di uscire Perché, ecco, come potete vedere Ero un attimino stretto Ma non è un caso che io mi sia messo qui dentro Perché volevo dimostrare un punto prima di cominciare questo video Infatti una delle mie funzioni preferite Delle novità preferite della 1.14 È proprio la possibilità del player di sdraiarsi E quindi di rientrare in degli spazi molto più piccoli Abbiamo già sfruttato questa cosa in varie strutture in giro per la base Per dire, qui abbiamo una botola che ci permette di abbassarci In realtà è più che altro questa E ci permette di oltrepassare la parete con un passaggio segreto E andare dall'altra parte La cosa interessante è che il giocatore può, in questo modo, rientrare in un unico blocco di spazio Noi qui dentro siamo incastrati in un solo blocco di spazio Ed è una cosa incredibile Ma arrivo subito al punto Con questa nuova funzione si sono sviluppate tutta una serie di nuove costruzioni Di passaggi segreti, di meccanismi, di cose E è scoppiata una moda negli ultimi giorni Che è quella di costruire le mini case Sarebbero delle case dove ogni piano è alto solamente un blocco Quindi tu ci puoi stare solamente sdraiato E poi accederci in questo modo qui È una cosa davvero fighissima Perché è un punto di vista mai visto su Minecraft E quindi oggi voglio costruire una casa alta solamente un blocco E so già più o meno come farlo Ora, per prima cosa magari andiamo a dormire come sempre Ho già in mente Ci sono mostri nelle vicinanze Come ci sono mostri nelle vicinanze? Dove sarebbero questi mostri che mi impediscono di dormire? Non lo so Non vorrei che ci sia qualcuno in cantina Nope C'è un droned nell'acquale o no? Quindi non ho capito Volevo mostrarvi un paio di cose Allora, innanzitutto Il nostro arco Di nome Bawret Non so perché il nome era scomparso Ho ricontrollato anche il vecchio video E noi lo avevamo rinominato Confermato e tutto quanto E il nome era Bawret Poi ad un certo punto mi avete detto Ma Eren, perché l'arco si chiama solo Bow? E dicevo Bow Anzi, Bow Ed effettivamente è uno strano bug Ma sembra che gli abbia tolto il nome Per qualche ragione Quindi gliel'ho rimesso E ora è tornato Bawret Come vedete Poi, ragazzi Ho continuato a costruire le mure esterne Adesso da qua non si vede tanto Ma praticamente ho proseguito Eravamo arrivati più o meno in quel punto lì E ho seguito fino ad arrivare all'angolo laggiù Lo so che manca ancora un sacco Però è il lavoro davvero lungo E pian piano lo finiamo Io ogni tanto quando ho tempo Aggiungo delle sezioni Vado avanti Ed arriveremo ad avere le mura complete Ok, adesso posso dormire Si vede che i mostri se ne sono andati Appena mi sono allontanato Ultima cosa che vi faccio vedere Prima di iniziare subitissimo Con l'argomento che vi ho già anticipato Riguarda Chiudi qui Il nuovo ascensore Che ho costruito nello scorso video Quindi qui Ho fatto un nuovo ingresso Devo ancora capire come mascherare bene Il tutto Se mascherarlo Se lasciarlo visibile Perché insomma C'è questa cosa qua Anche da correggere Comunque Questa è la prima entrata storica Della base Ve l'ho già spiegato Lo sapete E ho costruito un ascensore Nel mentre c'erano dei colpettini di laggi Molto strani E ho costruito questo ascensore Nascosto dietro la cascata Ho aggiunto un pezzo alla fine Che utilizzando lo stesso meccanismo qui Cosa che è completamente inutile Potrei mettere semplicemente un pistone Che esce lateralmente e basta Ma utilizzando lo stesso meccanismo Mi faccio spingere di lato Per arrivare esattamente Lassopra Vi faccio vedere Quindi è più semplice Da mostrarlo Che raccontarlo Quindi schiacciamo il pulsante Su 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 Tac Destra E finisco bloccato sulla scala Perché ho voluto fare questa cosa Un po' per Ingannare il meccanismo Che ci ha fatto penare così tanto E che mi spingeva fuori dall'ascensore Ho voluto proprio fare il meccanismo Perché ho fatto questa cosa Dicevamo Che ho voluto proprio ripetere Lo stesso problema Che avevo avuto Con lo stesso meccanismo Anche se inutile Per arrivare alla soluzione Un po' per prendere in giro l'ascensore Questo era il mio scopo E ho tenuto la scala Ho utilizzato questo Bug Non è un bug Però chiamiamo tipo Errore del tempismo Del timing Per arrivare esattamente dove volevo E la scala mi blocca lì E mi permette di salire tranquillamente Dunque ragazzi Per la nostra mini casa alta un blocco Ho pensato di posizionarci Esattamente qui Perché qui dentro Non ho mai usato lo spazio che c'era Dove una volta ho creato il primo rifugio Quando arrivai qui nella montagna C'era proprio un passaggio qui E c'era il letto iniziale Le cose Che ho usato un attimino come appoggio Per costruire la base Ora quello spazio L'abbiamo sfruttato da una parte Per creare l'ascensore che sale Quindi infatti qui dentro c'è dello spazio Dall'altra parte è inutilizzato E questa parte di montagna Non c'è praticamente nulla Diciamo che È anche difficile pensare di incastrarci qualcosa Considerato che è staccato dal resto della casa Quindi ho pensato che potesse essere il luogo perfetto Per fare una mini casa L'idea È quella di scavare Qui dentro E creare una mini casa Alta un blocco Di due piani Con tanto di scale E può sembrare una stupidata Ma Come fai a fare le scale in una casa Alta un blocco Dove se ti alzi in piedi Non puoi più abbassarti Ecco Vi mostrerò come fare questo piccolo trick Allora innanzitutto Vorrei prendermi un po' di spazio Perché poi voglio anche abbellire fuori Prima o poi E Avete sentito? Cioè state sentendo? Ma raga Ma che diamine di suoni ci sono Ultimamente Che cos'era? Era inquietantissimo È già successo di sentire questi suoni Qualcuno ha pensato che Lo avessi messo io Per fare Hype di qualcosa In realtà c'è davvero questo suono Io non ho Non c'entro niente È un suono del gioco Molto creepy Forse perché c'è un po' di ombra Perché siamo a un livello Non è una caverna Magari c'è vicino alla caverna Non lo so Vabbè Torniamo noi Va che meglio Allora Mi tengo un attimino di spazio qua fuori Perché lo utilizzerò per abbellire Dobbiamo fare l'ingresso della casa Per l'appunto Quindi molto semplicemente L'ingresso Allora qui possiamo già iniziare a scavare un paio di blocchi Sarà composto da Una trapdoor La trapdoor ci serve per entrare e uscire ovviamente Quindi quello che dobbiamo fare è Rimetto un attimino qui la terra Trapdoor La metto qui Tolgo la terra E abbiamo fatto la nostra porta Questa sarà la porta della mini casa Come funziona? Come semplici Vai qui La apri E questa ti abbassa in automatico Così da poter entrare all'interno In uno spazio alto Un blocco Ora staremo molto in prima persona qui Perché capite che in terza Vi faccio vedere ogni tanto Ma Si vede niente Tanto Minecraft si gioca sempre in prima persona Ma magari sai Per fare qualche ripresa particolare Dobbiamo decidere Quanto fare grande la nostra casa Quindi magari entriamo appunto Di un altro blocco Così da lasciare spazio per eventuali pareti E qua iniziamo a scavare Due da una parte Due dall'altra Quindi iniziamo facendo un perimetro di cinque blocche Due, tre, quattro, cinque Andiamo avanti Ecco l'inconveniente è che Nello scavaggio saremo molto lenti Perché stiamo strisciando Quindi non possiamo correre Non possiamo spostarci velocemente Siamo un pochino rallentati da questa cosa Ora continuiamo a scavare E questo è il nostro piano Banalmente tu qui dentro Puoi farci una casa E stare così Sempre Metterci la crafting Metterci tutto quello che vuoi E' molto claustrofobico Però l'idea in sé è molto figa Perché è una casa alta in blocco Ora non la facciamo così piccola Cerchiamo di allargarla un po' Magari facciamo un 7x7 Non voglio prendere troppo spazio Perché comunque il concetto di fare una casa piccola È piccola in altezza in realtà Quindi noi cerchiamo di non esagerare anche in larghezza Così rimane tutto molto caruccio Allora abbiamo 3, 4, 5, 6, 7 blocchi 3, 4, 5, 6, 7 Quindi 7x7 potrebbe andare bene Che ne dite? Andiamo a fare la scala Quindi per fare un altro piano Dobbiamo lasciare un blocco Questo qui Che sarà il soffitto per questo piano Il pavimento per quello sopra E poi dobbiamo scavare un altro blocco sopra Quindi in totale con i due piani La casa sarà alta a 3 blocchi Si potrebbe dire In 3 blocchi e 2 piani Sì è abbastanza assurdo pensarci Ma si può fare Come facciamo però a realizzare il secondo piano? Se non posso alzarmi? Dobbiamo fare una scala particolare Ed è per questo motivo che mi sono portato I mezzi blocchi e le trapdoor Molto importanti Quindi si comincia scavando lo spazio per fare la scala Quindi facciamo una scala molto aperta qui Lasciamo un blocco che sarà il nostro accesso alla scala E poi qua dobbiamo comunque scavare in due blocchi d'altezza Perché comunque prima o poi bisogna salire Quindi ci serve Quello che dobbiamo fare è mettere una botola qui Quindi dopo il blocco in cui entri Che è un blocco normale Metti una botola E nel blocco scavato sopra Metti un mezzo blocco Il blocco successivo Metti sotto il mezzo blocco E sopra la botola Il blocco successivo Succederà questo Allora mettiamo un attimino la terra Perché non ho la pietra Andiamo a mettere un blocco E rimane un blocco d'altezza Ora se io entro qui dentro Noterete che posso fare questa scala Questa mini scala E il personaggio è rimasto sdraiato Non si alza mai Quindi questa è una mini scala Che possiamo salire e scendere da sdraiati Senza interrompere Appunto la posizione del personaggio Ricordate che se vi alzate È la fine Non potete più abbassarvi Se non usate una botola o un pistone Quindi noi non dobbiamo mai alzarci Dobbiamo sempre rimanere sdraiati E questo è il modo per salire da un piano all'alto Ora in questo modo abbiamo fatto Il primo diciamo blocco di altezza Come vedete servono praticamente 4 blocchi Per arrivare su di un blocco E altri 3 per arrivare al secondo blocco Quindi tra l'altro 7 blocchi dovrebbe essere il numero giusto Senza volerlo ho proprio scelto bene Quindi qui scaviamo altri 3 blocchi Devo portarmi assolutamente la pietra liscia Andiamo a scavarne quindi un altro qui E un altro qui In realtà qua avremo il blocco finale Dove arriveremo per il secondo piano E qua di nuovo prendiamo queste due cose Mettiamo un mezzo blocco qui Una botola E sopra il contrario Mezzo blocco qui E botola lì Così abbiamo fatto le nostre scale Arriviamo qui sopra E teoricamente Andiamo a riprendere un attimo la terra Scavando qua dovremmo essere Come vedete al secondo piano Se io scavo qui sotto Vedete combaciamo perfettamente con il piano inferiore Quindi ce l'abbiamo fatta Quindi abbiamo creato la nostra casetta Al tamblocco Questo è il secondo piano Di nuovo Purtroppo è l'unico inconveniente Siamo davvero molto lenti a muoverci Cioè è una lentezza disarmante Scendiamo le nostre mini scale Arriviamo al piano terra Come vedete Il piano terra è esattamente sotto il secondo piano O il primo piano in realtà E poi possiamo uscire da qui Tranquillamente abbiamo anche la nostra porta Ora il concetto di questa casa Lo vorrei adattare A una sorta di casa hobbit Perché sta lì nella collina È piccola È più piccola del normale È più bassa Quindi vorrei dargli un po' quello stile lì Intanto usiamo l'ascensore Che funziona perfettamente Mi fa piacere E prima di andare a dormire Direi di prendere i blocchi Che ci possono servire Quali per esempio La pietra liscia Perché ho fatto un po' un casino Quindi prendiamone un po' E poi Come la decoriamo questa casa Mi piacerebbe fare qualcosa di diverso Rispetto al solito Quindi magari qualche blocco colorato Ok ragazzi Occupiamoci un attimino Delle decorazioni interne Innanzitutto stavo pensando Che se io scavassi qua Abbiamo una parete E quindi potenzialmente Potrei farci anche delle finestre Magari non subito qui Ma tipo Qua ci potrebbe stare bene Una bella finestrella Che poi diventerà una sorta di feritoia Perché qua Se devo anche cambiare le pareti Dovrà un po' coprire tutto quanto Però Ci potrebbe stare bene Quindi se la mettiamo qui La dovrei mettere Anche qua dietro Che è un po' Imboscata Però Secondo me ci sta Ok A questo punto Volendo decorare Internamente la casa Abbiamo un po' Un problemino Allora Innanzitutto Ho pensato di utilizzare La terra cotta verde Sono andato Sono andato un po' A farmare Il legno di spruce Grezzo Che andrò a strippare E poi Le assi di spruce Per le pareti Quello che dobbiamo fare È Se vogliamo cambiare il pavimento Stare molto attenti Nel farlo A non cadere Nelle parti Dove sto scavando Perché se succede Mi alzo in piedi E poi Non è che non posso più uscire Però insomma Diventa un po' Fastidioso Perché dovrei O riabbassarmi O scavare fino a fuori Quindi noi Questo cerchiamo Di evitarlo Scaviamo tutto Con molta Molta attenzione Anche questo blocco qua Abbiamo un piccone Che è troppo potente Quindi mi fa scavare Più del dovuto E questa cosa È incontrollabile Oramai Però insomma Piano piano Cerchiamo di mettere Tutto il pavimento Iniziamo anche A mettere qualche torcia A casa La parte della scala La vado a completare Totalmente Con il legno Infatti le pareti Le voglio fare Totalmente di assi Quindi anche qui Nella scala Andiamo a mettere Assi di legno Mettiamo anche qui Assi di legno E anche Qui sopra Anche lateralmente La scala sarà Totalmente assi di legno In modo da Confondere il più possibile I gradini Perché ovviamente I gradini Sono fatti un po' di botole Un po' di mezzi blocchi Diciamo che Così nell'insieme Potrebbero Notarsi meno Le differenze Della botola Rispetto agli altri blocchi E ora che sto scavando Per fare Il pavimento Qui E il soffitto Del piano di sotto Notiamo la casa In tutta la sua interezza Tre blocchi Cioè ragazzi È qualcosa di Micidiale Se ci pensate Comunque qui Andiamo a fare Un'alternanza Di Tronchi Che poi appunto Andiamo a strippare Ne mettiamo Un po' così E un po' Nell'altro senso Quindi li voglio Tipo mettere a scacchiera Poi faccio l'inverso Metto questi così E gli altri Nell'altro senso Ok ragazzi Sono tornato con un po' di cose Per iniziare a decorare La casa Anche perché Qui in realtà Mi mancava il soffitto Mi stavo dimenticando Se non ho appena accorto Di una cosa Non ho preso Tutta concrete Cioè O meglio Non ho preso Tutta terracotta Ho preso Della concritta Anche Ho fatto un mischione Di due blocchi diversi Guardate qua Vabbè Ok ragazzi Allora Significa che forse Non avrò Abbastanza terracotta Dovrò assolutamente Correggere Questa cosa Perché Nell'accesso Gli ho presi Come se fossero Gli stessi Non mi sono accorto Che erano due blocchi diversi Vabbè Per primissima cosa Qua andiamo a strippare tutto E otteniamo Quell'effetto Che stavamo cercando Forse la dark hawk Rendeva meglio Strippata In questo caso Perché aveva uno scuro Che si poteva abbinare di più Ma non voglio neanche Fare tutto scuro Secondo me Un po' di Superficie chiara Ci può anche stare bene Così Giusto per smorzare Un po' del resto Qua sembra di due colori diversi In realtà L'effetto Della torcia Della luce Che in un blocco Di altezza Diventa un po' strano E colora in maniera strana I blocchi Cosa possiamo mettere In una mini casa Possiamo metterci tante cose Allora Io ho pensato Innanzitutto A parte le cose ovvie Di provare a simulare Un tavolino In questo modo Quindi ci mettiamo Che ne so Qui può andare bene Direi si Mettiamo un mezzo blocco Che simula appunto Il tavolino E utilizziamo Dalle trapdoor Di betulla Per fare tipo I classici Cuscinetti Stile Giapponese La betulla Mi ricorda molto Lo stile Giapponese Perché sembra Appunto Le classiche Pareti di carta Tra virgolette E mi ricorda un po' Quei tavolini Classici Molto bassi Molto semplici Potrebbe essere Una soluzione Abbiamo però Bisogno anche Di cose funzionali E non è un problema Perché puoi mettere La crafting table Senza alcun problema Ci sta benissimo Puoi mettere Le fornaci Magari le fornaci Sono un po' invadenti Quindi le inseriamo Nelle pareti Così risparmiamo spazio E Dove ho messo La seconda qua Per quale ragione Si è messa qui Per l'hitbox Della torcia Forse Ecco Appunto Quindi possiamo fare Un angolino così Che è molto Carino Ci potrebbe stare Possiamo riprendere Il concetto Che abbiamo usato in casa Delle librerie Un po' vuote Un po' piene Utilizzando Il lato del loom In questo caso però Non ho le altre librerie Quindi ce lo evitiamo Un attimino Possiamo utilizzare Questo tripwire All'ingresso Come se fosse Una sorta di appendino Per quando entri Poi Possiamo utilizzare Un botto di cose Stavo pensando Che la endrod Fa Un bellissimo Pilastro luminoso La possiamo mettere in mezzo E può essere Un pilastro luminoso Oppure Visto che Lo stile Che stiamo inseguendo È un pochino diverso Possiamo pensare Di usare Le lanterne Magari Inserendole In apposite Logge Quindi tipo Andiamo qui dentro Scaviamo Mettiamo Tutto il legno Attorno Così E ci mettiamo Dentro una bella Lanterna Poggiata qua Non ci sta per niente male Secondo me Non sappiamo Dove mettere la roba Le ceste Non si potrebbero aprire In un blocco di altezza Siamo tutti d'accordo E qui viene in nostro soccorso Il mitico barile Quindi mi sono portato Dei barilotti Io direi che possiamo Anche qui Scavare Un pochino Nelle pareti Magari Non troppo Partiamo da qui E facciamo Così E così Ci mettiamo Dei barili Chiusi all'interno In questo modo Mettiamo un altro qua Un altro qui Uno qui E ne mettiamo anche due in verticale Perché no Se me lo fa mettere Perché in realtà Da questa posizione Potrebbe essere un po' Un problema Beh lo possiamo mettere di lato Ecco di lato Ci potrebbe stare Mettiamo dei barili di lato Così vediamo le varie texture E tutti i nostri barili Si possono aprire Le ceste non si sarebbero aperte Ma i barili si Quindi possiamo anche mettere da parte I nostri oggetti Un grosso problema È che non possiamo mettere il letto Perché il letto Benché tu lo possa mettere Ti sdraie tutto Si bagga Perché poi non hai abbastanza posizione Spazio per alzarti Dopo che hai dormito Lo potremmo mettere per estetica E basta Oppure lo possiamo simulare Con dei tappeti Quindi per esempio Ci mettiamo qui Questa è la nostra camera da letto Facciamo finta Mettiamo i tappeti A ricordare un lettino Quindi una sorta di materassino steso Vogliamo un po' di privacy Possiamo creare delle pareti aggiuntive Non troppo invadenti Sfruttando i cartelli I cartelli potrebbero essere utilizzati Anche in qualche modo strano Per fare degli angoli Perché guardate Se io metto il cartello qui La sua hitbox Supera il blocco E fa questo effetto particolare Altre idee potrebbero essere Le scale Si potrebbero utilizzare Per decorare un po' le pareti Per fare Che ne so Tipo Il continuo Di una sorta di trave O una trama particolare Tutta Adesso ho fatto una cosa veloce La facciamo davvero per bene E soprattutto Ci dedichiamo un po' agli esterni E la facciamo sembrare Una bella casa per hobbit Se vi piace l'idea Fatemelo sapere nei commenti E se volete Consigliatemi anche Qualcosina da mettere Perché no Quindi noi ci vediamo Presto con altre puntate Un saluto da IronBase Ciao a tutti Ciao a tutti